Sarà un altro tostissimo banco di prova per l'acqua e sapone M. Gros sul campo di una luparenza che non ha perso più colpi e che ha approfittato gli scivoloni delle altre di testa, in particolare dell'Asti, per cui i Veneti sono ora in cima da soli. All'andata finita era 3-0-2 nel primo tempo, in gol per i bellartiani Schiocchet, poi Boruto e Cavinato, il bravo Diego è a disposizione, così come Capitano Murillo dopo il turno di squalifica. Buone notizie, certo violare il campo dei lupi sarebbe il colpo giusto al momento giusto, Nerazzurri in forma e il caso di provarci. Fase magica per il Pescara che alle 18 oppure domenica prossima al Palarigopiano riceverà il temibile Latina che ha sete di punti per restare entro i play-off. All'andata in Casa Pontina ci fu il primo blitz stagionale del gruppo di Colini che spugnò il terreno naziale con un secco 4-2 grazie a una rete di Rogerio e soprattutto una splendida tripletta del solito Mauro Canal. La condizione brillante dei Biancazzurri fa ben sperare che si giunga al settimo risultato utile consecutivo. In A2, ultimo turno a cose già acquisite, automatico il secondo ottimo posto per città di Montesilvano. In ottica griglia play-off l'equipe di Ricci riposerà, stessa storia in attesa dei play-off per il Loreto. In C1, penultimo turno, si riprenderà con la capolista Civitella Sicurezza Pro, ospitare l'Atletico Lanciano, mentre la vice Real Dem ospiterà il Celtic Chieti. In A femminile, ultimo turno della stagione regolare, il Montesilvano della Salvatore dovrebbe avere facile gioco. Domenica alle 16 al Palaroma col modesto PMB Roma, tre punti importantissimi per chiudere al primo posto davanti alle scudettate della Lazio. La vice Lanciano di Blasetti da tempo salva chiuderà il magnifico torneo sul campo del Sona.